Questa mattina un'aula magna gremita al liceo scientifico Leonardo Di Giarre ha accolto il presidente della regione onorevole Nello Musumeci in occasione dell'apertura delle giornate di studio organizzate nell'ambito del premio Viaggio Andò. Settima edizione di un premio prestigioso rivolto a tutte le scuole Di Giarre Riposto che farà vincere al primo classificato uno stage retribuito della durata di 30 giorni presso il Parlamento europeo nell'ufficio dell'onorevole Michela Giuffrida. Al secondo premio invece, ex-equo agli elaborati degli studenti dei nove istituti partecipanti, andrà un viaggio di tre giorni a Bruxelles comprendente trasferimenti e pernottamenti gratuiti, visita del Parlamento europeo e del Parlamentarium con conferenza illustrativa sul funzionamento delle istituzioni europee. Al centro del premio la nostra Costituzione che ha ben 70 anni e nasceva per unire gli italiani. Oggi i suoi principi possono costituire il fondamento di una vera cittadinanza europea. Il presidente della regione Nello Musumeci ha spiegato ai nostri microfoni l'importante significato che oggi ha la sua presenza al liceo Leonardo Di Giarre. Beh, intanto se mi consentite un atto di omaggio a Biagio Andò, un uomo che non apparteneva alla mia cultura politica, ma che ha lasciato un'impronta significativa per il suo impegno politico, per la sua onestà, per la sua passione, in un periodo assai difficile nel processo di ricostruzione della Costituzione e delle istituzioni repubblicane. È stato anche un sindaco amato, benvoluto dai suoi concittadini. E poi un omaggio alla scuola che è e resta, assieme alla famiglia, il luogo di formazione dei cittadini del domani. Oso dire più della famiglia, considerato che la crisi devastante ha coinvolto purtroppo i nuclei familiari nella stragrande maggioranza. Quindi parlare con i ragazzi, parlare di questa Italia, parlare di istituzioni democratiche, nelle luci e nelle ombre, per il presidente della più importante regione d'Italia, credo che sia un fatto per me assolutamente lusinghiero. Per loro spero un'occasione per mettere sotto giudizio, sotto pressione, un rappresentante delle istituzioni, a Giarre, che è la città dei miei avi, nella quale torno con tantissima, non nostalgia, ma con uno stato d'animo particolare, di gratitudine. E parlando di costituzione a Giarre, ciò cui subito si pensa è all'oramai violato diritto alla salute. Non ci si può esimere dunque dal chiedere al presidente Musumeci cosa si stia facendo concretamente per l'ospedale di Giarre. Presenteremo il nuovo piano regionale ospedaliero il prossimo mese al Ministero della Sanità e della Salute. Nel nuovo piano regionale noi prevediamo la restituzione del pronto soccorso all'ospedale di Giarre e naturalmente le strutture annesse, quindi la chirurgia e la medicina. Speriamo che il Ministero non voglia fare osservazioni che possano pregiudicare questo nostro intendimento. Era un impegno che avevamo assunto prima delle elezioni e come sempre gli impegni si mantengono. La volontà del governo regionale è quella di restituire l'ospedale di Giarre alla sua struttura originaria, quella che fino a qualche anno fa conservava prima di essere preda di una spoliazione assolutamente ingiustificata e ingiustificabile.